Il Ministro ci ha fatto delle promesse, noi però stiamo sempre coscienti che sono promesse dei politici e abbiamo visto quello che è successo al Senato, la politica in Italia è anche questo. È stata fatta un'operazione di killeraggio, si sta cercando adesso di far risuscitare una categoria che è stata messa sull'orlo del baratro. Noi ci vogliamo credere, però che i politici sappiano che noi non molliamo. Noi rimarremo qua fino a che non vediamo tolta questo emendamento. Grazie a tutti.